Sotto stretto monitoraggio da parte dei carabinieri dallo scorso mese di luglio il quartiere Piedimonte a Nocera Inferiore, dove secondo le fonti investigative era stato messo su un vero e proprio market dello spaccio di cocaina, hashish e marijuana. I carabinieri hanno anche nascosto delle telecamere in diversi punti del rione per poter seguire i vari spostamenti delle persone coinvolte e l'attività di spaccio. Nel corso degli ultimi mesi sono stati sequestrati a più riprese diversi quantitativi di sostanze stupefacenti e non solo nell'agronocerino sarnese ma anche nel Cilento, in particolare a Dispani, dove nel mese di agosto venne arrestato uno spacciatore. Secondo quanto documentato dalle immagini registrate dai carabinieri, il gruppo agiva con una metodologia ben impostata e collaudata, il tutto nell'indifferenza dei residenti del quartiere, come hanno rimarcato gli inquirenti. Innanzitutto l'attività di spaccio aveva un suo orario dalle 14 alle 20 di ogni giorno. Nei pressi di un crocifisso all'incrocio tra via Urbulana, via Liende e via D'Aragona veniva contrattato l'acquisto della dose, che veniva poi ceduta dalla stessa persona, l'acquirente, ma in un posto diverso, di solito nei pressi di alcuni istituti scolastici del rione e dopo alcune ore. In casa di una coppia arrestata nel blitz di questa mattina, secondo gli inquirenti, le sostanze stupefacenti venivano pesate e confezionate, mentre in un garage di proprietà di un altro degli arrestati sono state sequestrate armi e munizioni. Questa mattina il procuratore della Repubblica di Nocera e Inferiore, Giovanni Francesco Izzo, il sostituto procuratore titolare delle indagini, Marielda Montefusco, e il comandante del reparto territoriale dei carabinieri di Nocera e Inferiore, Maggiore Matteo Gabelloni, hanno illustrato i dettagli della complessa operazione. Questa organizzazione che da tempo operava in condizioni agevoli per loro e difficili per gli investigatori, in quanto il territorio è contrassegnato da un tedaro di vicoli, di viuzze, di piccole corti, eccetera, all'interno del quale era facile quindi avvistare chiunque, e c'erano evidentemente posizioni atte a segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti, il che rendeva difficile, ha reso difficile l'attività prima di monitoraggio e poi di intervento. L'attività di spaccio avveniva nell'indifferenza quasi totale dei residenti del quartiere? Diciamo che il quartiere era un po' la roccaforte di questo gruppo criminale, quindi ci rendiamo conto delle difficoltà delle persone che hanno dovuto subire anche la loro presenza. Di certo si muovevano in un quartiere dove erano nati, cresciuti ed erano conosciuti da molte persone, e ovviamente anche chi non avesse gradito comunque doveva fare i conti con un gruppo criminale spavaldo, che si sentiva sicuro, che poteva anche contare su delle armi, e quindi dobbiamo anche considerare la paura che potevano incutere nelle persone per bene che abitano in questo quartiere storico.